Buongiorno ragazzi, forza se non ti smettevola Luca, le ragazze là dietro potrebbero smetterla di fare salotto Pamela è proprio figa, c'ha un culo Pamela, interrogata 1 più 1 fa 8, 2 più 2 fa 7 Però come hai sbagliato? Qualcuno ti ha interpellata? Vuoi venire qua a fare la professoressa? Marco è 8, c'è giusto qualche imperfezione ma vabbè E ragazzi c'è qualche ragazza che vi piace, magari anche un Allora ragazzi, chissà dirmi quanto fa 2 più 2? 4 Bravo Luca! Come si chiama questa formula? Sono le equazioni di Lagrange Sì vabbè era facile Uff, ma non trovate che faccia molto caldo oggi? Ragazzi non pensate che quelle gonne siano un po' troppo corte? Ma c'è Andrea a petto nudo Ma il vostro abbigliamento è una forma di distrazione nei confronti dei ragazzi L'unica distratta mi sembra lei dagli addominali di Andrea Marco ma di questa verifica hai preso 4, ma cosa succede? Vuoi parlarne? C'è qualcosa che non va Giulia hai preso 5, coglioni Ragazzi è piccolissimo questo posto E c'è una mamma fuori Ho paura Aiuto Aiuto, ma perché non sto facendo?